I fratelli separati è la storia di un'amicizia con lo sfondo dei grandi eventi tragici del XX secolo in un arco temporale che va dal primo conflitto al secondo e che copre attraverso tre personaggi di eccezione l'intera gamma delle grandi pulsioni ideologiche del Novecento. Il problema del totalitarismo, fascismo, comunismo, il problema della democrazia, il problema dell'emancipazione dei nuovi momenti e fenomeni sociali, il problema anche dei rapporti che si legano tra diversi personaggi appartenenti ad ambienti molto opposti. È un'esperienza che reputo molto interessante rivivere e cercare di far rivivere al lettore perché consente attraverso una serie di relazioni che sono fondamentalmente delle relazioni binarie all'interno di un rapporto a tre, quelli che sono dei momenti veramente significativi. E da questo punto di vista, anche se il libro può apparire rivolto soltanto agli specialisti di letteratura francese o agli storici del Novecento, credo e spero che contenga un messaggio che possa dire qualche cosa anche ai lettori di oggi applicato sulla realtà in cui viviamo e sui problemi che dobbiamo affrontare.